Ciao a tutti ragazzi, sono Don Goren, Buongosen, Bombsman, Boom 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 e stasera, cioè oggi pomeriggio, cioè stamattina, non lo so a che ora state guardando questo video a qualsiasi cazzo di ora state guardando questo video sappiate che in questo momento state avendo l'occasione di una vita intera oddio, detto così sembra che state per vincere 1000€ no, non state per vincere 1000€ ma per 1000€ che ci fai? vabbè, comunque linea generale di massima account fresh, storia fresh tutte le carte che potete immaginare da qua fino al creato, letteralmente tutte le carte bond, tutte le carte debuff quindi non è che parliamo di una squadretta bond messa no, una squadra bond completa, con tanto di panca completa una debuff completa, con tanto di panca completa quindi un account fresh con storia ancora da toccare più, 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 più una marea di giochi cioè non è che tu ti... allora, il problema reale dei fresh è solo uno che non hai le carte vecchie per poter passare le skill alle nuove quindi, è nel nuove, intendo alle nuove carte quindi di solito il fresh va a soffrire il fatto che ti mancano determinati giocatori per poter rendere il fresh competitivo perché ti mancano determinate skill questa non è una cosa che succede con questo account questo account è completo sia dei nuovi sia dei vecchi sia i nuovi in otto copie diverse sia i vecchi in otto copie diverse quindi c'è la scelta di tutto e di più partendo dagli sdf di due anni fa agli attuali una marea di dc una marea di carte tutto e di più letteralmente tutto e di più tutto quello che potete immaginare in un account sta qua dentro è letteralmente migliore anche del mio account ecco perché stavolta per la prima volta da quando esisto sulla faccia della terra da quando esisto su Twitch da quando esisto su YouTube ci saranno delle condizioni per partecipare al giveaway quindi il giveaway avrà delle condizioni per partecipare che ora ve le spiegherò con calma non sono delle condizioni difficilissime e soprattutto ci tengo a precisare che quando arriveremo a parlare di Twitch il mio spiegarmi è soltanto verso chi ha Amazon Prime chi deve fare una sub pagata non voglio assolutamente che le persone spendano soldi per fare la sub pagata per poter partecipare al giveaway quindi chi ha la possibilità di un Amazon Prime totalmente gratuito quindi totalmente gratuito che non si spende nulla potete fare la sub con l'Amazon Prime totalmente gratuito chi non ha Amazon Prime no ragazzi ve lo sconsiglio stesso io di cuore non vale assolutissimamente la pena fare un abbonamento per partecipare al giveaway è come un abbonamento pagato un abbonamento pagato per partecipare al giveaway è come farsi fare una rapina e essere contenti di farsi fare la rapina Amazon Prime, il sub con Amazon Prime è gratuito quindi chi ha Amazon Prime lo può fare in maniera gratuita assolutissimamente sì ma chi non ha Amazon Prime non lo può fare in maniera gratuita e dovrebbe pagare assolutissimamente no chi logicamente ha già la sub è già nel contest quindi questo account verrà dato mercoledì sera quindi mercoledì sera sarà scelto il vincitore sarà fatto logicamente live sarà dato il vincitore in tempo reale in modo che si vede ci sono ancora un sacco di ticket da utilizzare tralasciando il tutto e vi do il tempo per poter pullare sia alla G League quindi dandolo mercoledì sia alla G League che alla sia alla G League che alla DC l'unica carta che probabilmente verrà purtroppo trasciata per questioni di tempo è Senaldo ma tralasciando questo ci sono ancora tanti ticket da utilizzare veramente tantissimi ticket da utilizzare c'è ancora la storia fresh tutto da fare gli eventi ancora tutti da fare e tralasciando questo non contento che sta sfasando un po' la cam non contento ragazzi ci sono anche nuovi in doppia tripla copia quindi non è che tu dici io ne ho solo uno no ne hai 5, 6, 7, 8 ci sono 3 gentile ci sono 3 levin ci sono una marea di carte l'unica carta ci sono 2 xiao se tu dici vecchi ci sono Aoi c'è Tsubasa Bar ci sono tutti cioè letteralmente tutte le tecniche di cui puoi aver bisogno ci sono letteralmente tutte logicamente avrà qualche piccola pecca come ogni fresh perché nessun fresh è perfetto ma ci sono tutti c'è anche il vecchio Yuga per potergli dare il tiro del vecchio Yuga intendo quello quello SDF di dicembre quindi gli puoi dare anche il tiro dell'SDF e ci sono un po' tutti quindi diciamo sta a voi gestire bene questo account per portarlo ai livelli massimali c'è praticamente tutto mancano 2 o 3 carte 2 o 3 carte che ho notato che possono essere importanti se non mi sbaglio manca Wakashimazu c'è Wakashimazu non manca c'è nel senso manca Wakashimazu e manca Santana Full Metal Phantom cioè quello là quello là l'ultimo DF uscito ok poi per il resto c'è letteralmente tutto anche in ex dream più vecchi c'è praticamente tutto perché un account che Spino si stava portando avanti da da dicembre più o meno ma anche prima da dicembre era un fresh che si sta portando avanti da secoli secoli e secoli e quindi è un fresh ah no ragazzi che cazzo sto dicendo sta qua cioè ma io sto più rincoglionito di voi cioè io sto proprio rincoglionito al massimo sta qua cioè io l'ho di nuovo davanti e ho detto che manca pensa quante cose magari ti tengo davanti e sto dicendo che mancano vabbò comunque linea generale di massima perché il filtro non me l'ha fatto vedere perché il filtro ho messo solo ah stava stava qui cioè sono ciecato proprio io sono proprio cieco a me mi dovrebbero portare mi dovrebbero sotterrare c'è di tutto e di più letteralmente tutto e di più manca Wakashimazu questo manca manca Wakashimazu cioè manca Wakashimazu poi c'è tutto c'è letteralmente tutto non ho mai visto un fresh così pieno e oh cazzo di fresh in 5 anni nella mia vita ne ho visti ma un fresh così pieno così pieno di carte così pieno di cose anche carte vecchie perché tu non è che tu dicevi solo le carte anniversario no le carte anniversario più anche tutte le carte vecchie cioè c'è tutto gli manca un cazzo oltre Wakashimazu quindi c'è di tutto e di più non so c'è il calz per dire c'è calz che calz ok al momento sta scena un po' furimeta ma comunque è presente oltre calz ci sono 10.000 levine già generando così già nati investi due c'è brian ci sono tutti c'è letteralmente tutto di tutto michael xiao xiao 2.0 xiao 3.0 ce ne sono due di xiao 3.0 tre radunga non so perché c'è anche nitta tutti i tedeschi tutti i cristiani tutti i juventus cioè c'è tutto non manca un cazzo di niente è un account totalmente completo su tutti i punti di vista manca solo Wakashimazu cioè letteralmente manca solo c'è tutto cioè c'è tutto qualsiasi carta mi viene in mente è anche un account migliore del mio ma io che lo metto a fare in giveaway ma io me lo tengo io sto coso rirollo io e me lo tengo io questo è un account dei sogni ma che è sto coso è una solida realtà ma guarda qua c'è tutto c'è un minocarte io ma che stai dicendo gli smetto pure in doppia copia cioè è perfetto sia per bond che per debuff no ma io me lo tengo io ragazzi ciao è stato un piacere c'è c'è tutto yoga c'è tutto c'è letteralmente tutto quindi per partecipare a questo giveaway edizione speciale perché edizione speciale ci sono solo due regole uno far parte del canale telegram ragazzi si è un po' una forzatura so non ho mai fatto queste forzature è la prima volta che faccio una forzatura del genere anzi vi dirò di più Spino Spino mi ha detto metti la condizione che devono essere sub in modo che non passi tu per il baldini del diciamo del momento ma perché te l'ho detto io però fare così è semplicemente uno scaricabarile nonostante sia decisione di Spino l'account di Spino è scaricabarile comunque io sono una persona un essere umano pensante e quindi posso pensare con la mia destra dipendentemente che Spino chapeau a Spino che si che si vuole prendere praticamente la la colpa della regola del sub ma comunque sono un essere umano pensante posso pensare di scelta mia e forse è l'unica maniera sostanzialmente per non tanto per incrementare le sub o per incrementare però ci sono molte persone che hanno Amazon Prime e non l'hanno mai utilizzato in vita loro anche se ce l'hanno libero a disposizione semplicemente perché sono pigri quindi questo potrebbe essere una maniera diciamo per movimentare un attimo quelle persone che ce l'hanno là ce l'hanno fermo sono semplicemente un po' pigri si scocciano potrebbe essere una maniera veloce per riuscire una maniera veloce un incentivo per riuscire a farli partecipare e quindi attivare questa ruota di Amazon Prime quindi in descrizione trovate le uniche due regole trovate il canale Telegram dove dovete entrare se volete partecipare o anche se volete fare due chiacchiere non è che dovete entrare per forza non c'è una forzatura se non volete cioè nel senso se non volete partecipare o non vi va di chiacchierare non è però il canale Telegram in generale anche se non dovete parlare non dovete partecipare il canale Telegram è un ottimo spunto un ottimo punto per parlare di Tsubasa per parlare di Team per parlare con una community healthy nel senso in buono stato e non tossica perché le community che io vedo sugli altri canali Telegram sono tossiche il canale non voglio dire perché è il mio ma il mio canale non è per niente tossico si può parlare tranquillamente nessuno rompe il cazzo se qualcuno rompe il cazzo viene tranciato per quanto riguarda invece Twitch viene lasciato anche il canale Twitch in descrizione in cui siamo in live tutti i giorni tutti i fottutissimi giorni non c'è un giorno che viene mancato almeno che non esplode il sole la luna e tutto il resto appresso e l'altra condizione che è la condizione più brutale la condizione che non ho mai fatto la condizione più brutta la condizione più baldiniana se la vogliamo chiamare così è il fatto che per partecipare al giveaway devi avere la sub la sub con Amazon Prime è gratuita quindi nel caso in cui avete Amazon Prime a casa ma anche un parente eccetera eccetera potete collegarlo in maniera gratuita e fare la sub in maniera gratuita quindi senza pagare assolutissimamente nulla non si paga nada nisba zero quindi nel caso in cui avete Amazon Prime io vi consiglio di farlo e di partecipare nel caso in cui non avete Amazon Prime ve lo sconsiglio perché la sub pagata costa tipo 3 euro e 99 non conviene pagare per partecipare a qualcosa che non si è sicuri di vincere quindi nel caso in cui avete Amazon Prime ve lo consiglio nel caso in cui dovete pagare per fare la sub assolutissimamente no assolutissimamente no per chi ha già la sub sia regalata che Amazon Prime pagata o quel che sia già viene compreso logicamente nel giveaway quindi il vincitore sarà estratto in live mercoledì sera quindi c'è tempo fino a mercoledì per partecipare in descrizione vi lascio tutto quello che serve ovvero il canale Telegram e il canale Twitch spero di essere stato chiaro spero che so che le regole mi faccia un poco schifo anche io ad aver messo sta regola però la realtà è che questa regola la sto facendo per una sola questa regola questa regola la sto facendo per una sola motivazione tanti di voi non sanno neanche di avere la possibilità di utilizzare Amazon Prime semplicemente perché siete un po' pigri e questo può essere il modo di farvi smuovere il culo sono pronto all'ondata di Flame sono pronto a tutto anche se potevo utilizzare tranquillamente quello che mi ha detto Spino per non adussarmi la colpa ma ormai penso che a 40 anni no a specie non 30 a 30 anni devo prendere cioè nel senso se faccio un'azione devo anche prendermi io i meriti e i demeriti dell'azione comunque questa maglietta sembra la maglietta dei fantasmi percate che è la maglietta di Tsubasa solo che l'inquadratura della webcam oggi è un po' la merda quindi è la maglietta quella là della Dream Championship dell'anno scorso sperando che quest'anno quest'anno le cose vadano meglio quindi per questo video è tutto nel caso in cui avete dubbi appunto c'è Telegram dove potete chiedermi tranquillamente qualsiasi dubbio avete nel caso in cui volete fare due chiacchiere indipendentemente dal giveaway c'è sempre il canale Telegram giù in descrizione quindi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto vi sia stato utile in qualche modo non lo so in descrizione trovate Todos bacioni stellari e ci becchiamo tra poco in live